Buonasera ragazze, questa sera registrerò il primo tutorial per la collaborazione con la Cobiz l'altra volta ho fatto il tutorial dell'unboxing e questa sera invece farò il tutorial del primo progetto che sarà questo orecchino allora di materiali che avevo preso nella collaborazione utilizzerò queste specie di mezzi cristalli da 6 mm di cui poi vi metterò il link nell'info box e un altro materiale sempre scelto per la collaborazione sono queste rocaille della Toho questo qua è il codice del colore che sarebbe il 46F ed è un marrone frosted di altri materiali che servono per la realizzazione dell'orecchino ci serviranno dei mezzi cristalli da 4 mm i mezzi cristalli da 6 presi nella dalla Cobiz ci serviranno delle super duo che in questo caso io sto utilizzando questa colorazione serviranno delle rocaille 15 0 che io sto usando quelle oro della Toho e un'altra colorazione di rocaille 11 0 sempre della Toho che sono queste qua le saffron poi serviranno vabbè una monachella o un perno la sua farfallina e un anellino per unire il modulino dell'orecchino al nostro perno pinze per l'anellino come filo sto utilizzando un miuki e un ago da 11 12 va bene comunque perché dobbiamo ripassare più volte all'interno delle 15 0 allora per iniziare il nostro modulino dobbiamo inserire sul lago una rocaille 11 0 del primo colore un mezzo cristallo un altra 11 0 un mezzo cristallo da 4 un altra 11 0 e un altro mezzo cristallo quindi questa sarà la sequenza tre rocaille alternate da tre mezzi cristalli da 4 portiamo alla fine del filo e andiamo a ripassare all'interno di di tutte le perline appena messe e andiamo a chiudere a cerchio a cerchio che poi non sarà un cerchio ma verrà fuori una sorta di triangolino allora questi orecchini li ho chiamati orecchini plettro perché la forma mi ricorda molto il plettro che si usa per suonare la chitarra sono molto semplici da eseguire veloci e anche come materiali sono materiali che bene o male abbiamo in casa tutte allora una volta fatti i nostri nodini ci portiamo ad attraversare un mezzo cristallo e una rocaille e andiamo a prendere 3 rocaille 11 0 dello stesso colore di quelle che abbiamo utilizzato e praticamente noi stiamo uscendo da questa parte e ci andiamo a rifirare nella stessa perlina dal lato opposto e si verrà a formare questo ripassiamo all'interno delle perline appena messe in maniera che rimangano abbastanza stabili ok in questo modo chiediamo bene il nostro filo poi attraversiamo il mezzo cristallo e la rocaille seguente e andiamo praticamente a fare la stessa cosa quindi andremo a caricare di nuovo 3 rocaille 11 0 di questo colore e in pratica questo piccolo andremo a fare su tutte e le rocaille finisco il giro e poi andiamo avanti allora adesso praticamente ci portiamo ad uscire da una delle rocaille di punta quindi ri attraverso il mezzo cristallo mi inserisco nella rocaille in quella laterale e mi porta ad uscire da questa di punta allora adesso mettiamo sul lago una 11 0 del secondo colore una 15 un altro 11 0 del secondo colore un mezzo cristallo da 61 11 del secondo colore una 15 e un'altra 11 quindi la sequenza sarà questa da questa puntina ci andiamo a inserire nella puntina del picco successivo in questo modo e andiamo a ripetere questa sequenza altre due volte allora una volta eseguite anche le altre due sequenze ci portiamo ad attraversare questa prima sequenza che avevamo fatto e usciamo in pratica della ultima 11 0 dopo il mezzo cristallo da 6 qui prendiamo due super duo e saltando la perlina quella sotto ci inseriamo di nuovo nella sequenza successiva tiriamo bene il nostro filo attraversiamo tutta la sequenza e ci riportiamo di nuovo ad uscire in questo punto praticamente sopra la rocaille questa e quindi tra una sequenza e l'altra andiamo ad inserire due super due lo facciamo ancora per una e due volte allora una volta finite di inserire le nostre coppie di super duo ci dobbiamo portare ad uscire dalla rocaille 11 0 che precede un mezzo cristallo da 6 e andiamo ad inserire sul lago tre rocaille 15 0 e ci andiamo ad inserire nel saltiamo praticamente il mezzo cristallo e ci andiamo a inserire nelle tre perline successive nella coppia di super duo quindi in questo modo e ci portiamo di nuovo in pratica attraversando anche queste tre perline ad uscire da qui e anche sopra questo mezzo cristallo dovremo andare a formare di nuovo il nostro archetto con tre rocaille 15 0 1 11 e 3 15 0 e lo facciamo sopra a tutti e due i mezzi cristalli che rimangono allora una volta terminati i nostri archetti ci portiamo ad uscire al fondo proprio di uno dei nostri archetti mettiamo sul lago un mezzo cristallo da quattro millimetri e ci inseriamo nel foro alto della super duo subito dopo in questo modo tra una super duo e l'altra andiamo inserire tre rocaille 15 0 e passiamo nel foro superiore della super duo successiva ora qui di nuovo carichiamo un mezzo cristallo da 4 e ci andiamo ad attraversare tutto il nostro archetto e andiamo praticamente a ripetere questa sequenza per altre due volte quindi adesso si è anche fatto il nodino nel filo ok qui andremo a mettere un mezzo cristallo da 43 rocaille 15 tra le super duo un altro mezzo cristallo da 4 attraversiamo l'archetto e ripetiamo la sequenza allora una volta terminato il giro facciamo un giro di rinforzo e ci portiamo praticamente mettiamo l'orecchino in questa posizione e ci portiamo ad uscire da questa rocaille 15 0 quindi l'ultima delle tre in mezzo alle super duo per poi andare a fare il nostro cappiolino per agganciare l'orecchino allora mi sono portata ad uscire dall'ultima delle rocaille 15 0 tra le due super duo e come vedete sto lavorando sulla punta allora se l'orecchino vi si è leggermente inarcato all'interno va benissimo perché se vedete non è completamente piatto rimane leggermente bombato proprio come un plettro allora adesso non ci resta l'altro da fare che caricare sul lago se i rocaille 15 0 e andarci a inserire nella prima delle tre quindi noi stiamo uscendo da questo lato e ci andiamo a inserire con l'ago da questa parte facciamo il nostro bel cappiolino ripassiamo un paio di volte ci spostiamo attraverso le perline facciamo qualche nodino di sicurezza e poi ci ritroviamo per agganciare la monachella ed eccoci qua monachella agganciata con il nostro anellino i nostri orecchini sono pronti come vedete sono molto semplici e veloci da realizzare piccolini ma secondo me sono degli orecchini abbastanza eleganti e soprattutto portabili anche perché con colori magari un po meno classici possono essere comunque messi tranquillamente anche con un paio di jeans per andare a fare colazione al mattino con le amiche io vi ringrazio per avermi seguito spero che questo progetto vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciatemi un like se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornate quando pubblicherò nuovi video ora vi lascio nell'info box i link per i prodotti che ho utilizzato presi nella collaborazione vi lascio il link della cobit e vi lascio anche il codice sconto riservato alle mie follower che questo debbi 5 off che è uno sconto di 5 dollari a fronte di un ordine di 40 dollari escluse le spese di spedizione un bacione a tutte e al prossimo video grazie 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 grazie